Ciao ragazzi, faccio questo video perché mi sono reso conto, riguardandolo, che nel video di ieri in cui parlavo della conferenza Microsoft alle 3, mi sono completamente dimenticato di parlare dell'innovazione più grossa che è stata svelata al mondo intero. Infatti mi sono dilungato a parlare dell'Xbox One X, della nuova console, di tutti i nuovi giochi che saranno proposti quest'autunno, ma ho completamente dimenticato di parlare della cosa più importante, più rilevante di tutte. Infatti, proprio quest'autunno, subito dopo il lancio della nuova console Microsoft, grazie ad un aggiornamento completamente gratuito che si chiama SuperDapper Graphics Pack, avremo nel nostro titolo preferito, il titolo preferito a tutti i migliori di giocatori del mondo, la possibilità di giocarlo cross tra le varie piattaforme, anche nella versione PC, creando un intero mondo di gioco tra le varie console e la versione PC. Inoltre sarà aumentato il numero di giocatori da 5 a 8, aumentando la possibilità di cooperare e di creare mondi sempre più grandi, ma soprattutto, e tenetevi forte, la novità più importante di tutti, e ovviamente ora posso dirvelo stiamo parlando di Minecraft, sarà quella che già la sua stupenda e superba grafica sarà completamente in 4K.